Rivediamo i passi di qualche conteggio. Apro verso sinistra, chiudo, apro verso destra, chiudo, riapro verso sinistra, giro in tranche di tallone. Incrocio verso destra, incrocio, indietro, indietro, chiudo, restare chiuso sulla sinistra, vado avanti in diagonale. Bato le mani, torno indietro, batto le mani, vado indietro verso destra, batto le mani, torno all'altro punto di partenza, batto le mani. Da qui giro un quarto a destra, faccio uno shuffle, più rock step, in avanti col piede sinistro. Giro completamente a sinistra, faccio un mezzo giro, provo ad avere il nome shuffle con la sinistra. 1, 2 stop, 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 di destra o sinistra. Ultima puntata, punta di destra, giù, punta di sinistra, giù, rock step di destra, porto avanti il piede di destra. Recupero il piede o più? Cos step step. Contiamo. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riprendo la capa, apro verso sinistra, apro verso destra, talco sinistra, giù il tacchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Destra, punti e 2, 3, 4, sinistra, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la coreografia che balliamo generalmente da tanti anni. La versione originale però, come ho anticipato nel video precedente, ha delle piccole differenze. Quindi è molto probabile che, guardando dei video online su YouTube di questo ballo, troverete dei passi differenti. Non è sbagliata nessuna delle sue versioni. Anzi, l'originale è appunto l'originale. È stata cambiata da noi, apportando alcune modifiche. La versione originale cosa consiste? Avremo l'apertura uguale. Qui, roti e attacchi. Il jump box. Nei punti dove avremo lo stesso tipo di apertura. Ripeto. Nella parte dove andremo avanti, invece che tornare indietro, vanno avanti sulla diagonale verso sinistra. Tutto qui. Cioè, fanno questo. Uno, due, due, tre, quattro, cinza, sette, quattro. Invece che andare indietro. Nella parte dove devo fare lo shuffle, anzi che girarmi completamente un quarto a destra, faccio il mio shuffle dritta, guardando le ore 12. Faccio questo. E il rock step, in conseguenza, lo farò all'indietro, col piede sinistro. Faccio un passo indietro col sinistro e riporto il peso sul destro. Da qui mi giro comunque un quarto a sinistra, adesso non sarà più un mezzo, ma un quarto. Quindi, faccio il primo passo col sinistro e mi giro. Da qui ci sono due sponde. E nell'ultima parte cosa cambia? Anziché fare questi, facciamo dei bambi. Cioè, faremo un passo davanti col destro, ampeggiando il rock step, post step. Questa è la versione originale. Cambiamo questi, la direzione di via per prendere, la direzione dello shuffle più rock step. E questi qua, che noi abbiamo già anche noi, che noi non facciamo, ma abbiamo sostituito con questi. Ci tengo a dirlo perché è giusto specificarlo, perché non conosce questo tipo di danza ancora. Potrebbe trovare lo star dei cast legato in questo modo e poi lo trova in altro. E' giusto dirlo. E adesso vediamo il ballato con la musica originale. Grazie.